Lunedì 24 aprile, ci siamo ben ritrovati con TG Mattina, buon inizio settimana a tutti. Partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani, partiamo dal messaggero nazionale. Giustizia, riforma in tre fasi, a maggio la modifica del reato d'abuso d'ufficio, poi l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, entro dicembre introdotta la separazione delle carriere, una svolta liberale, ha detto Cagliazza delle Camere Penali. PNRR dove vanno i fondi, Lazio e Lombardia avanti, priorità a sanità e infrastrutture, l'incognita legata ai ritardi. Quindi per quanto riguarda l'Umbria, la cronaca in primo piano, Perugia, la storia, sesso di gruppo e droga, denunciato dalla fidanzata, la notte folle di un 43enne di Ponte Felcino, che è stato denunciato alla polizia dalla fidanzata furiosa per averla abbandonata a casa dopo una lite, e ancora di più per averlo visto rientrare quattro ore dopo stordito da alcol e droghe. Lui non ha nascosto nulla, anzi le ha raccontato la sua notte brava e lei lo ha dunque denunciato. La Nazione, per quanto riguarda la pagina sempre del Nazionale, a centro pagina, libero di uccidere, Pisa, morte celebrale per la psichiatra, ha fermato l'aggressore qui in foto Gianluca Polseung, 35enne, che era in cura dal 2019, deliri social e precedenti penali per colui che è stato il sicario di fatto di Barbara Capovani, la 55enne psichiatra che è stata uccisa a bastonate. Polveriera Sudan, evacuati gli italiani, le forze speciali hanno portato via i connazionali bloccati dagli sconti tra esercito e mercenari e si teme un'ondata di profughi verso l'Europa. Per quanto riguarda l'Umbria, Perugia torna a casa dopo l'orgia, la fidanzata lo denuncia. Umbertide, oltre il sisma, Bill Pierantonio sale in eccellenza, ha vinto il girone A di promozione, la formazione alto tiberina. Umbria, boom di visitatori, seconda meta d'Italia per quanto riguarda gli ultimi weekend e in generale l'ultimo periodo per le stime sul turismo. Veniamo dunque agli approfondimenti all'interno dei quotidiani, dal messaggero, la strategia del governo, giustizia, la riforma intremosse. Si parte dai reati contro la pubblica amministrazione Nordio, il ministro prepara il nuovo decreto legge, prime modifiche nel Consiglio dei Ministri di maggio. Entro il 2023 la separazione delle carriere dei magistrati. Via l'appello dopo l'assoluzione in primo grado e usiamo le caserme dismesse per svuotare le carceri. Questi alcuni dei passaggi. L'intervista al presidente dell'Unione Camere Penali, Gian Domenico Cagliazza, dal ministro, una svolta di tipo liberale, gli serve il sostegno di tutto il governo. I temi trattati riflettono le urgenze del sistema italiano, evidenzia Cagliazza. Le modifiche da portare, dalle intercettazioni alla paura di firmare, i nodi da sciogliere, presunzione di innocenza e certezza della pena, le linee guida. L'obiettivo è correggere le storture del sistema. Per quanto riguarda i vari punti, partendo dal primo, le intercettazioni, non la trascrizione se si parla di terzi o di questioni intime. Quindi la segretezza degli atti, indagini top secret, fino alla conclusione per evitare la cosiddetta gogna mediatica. Quindi il reato da modificare, l'abuso d'ufficio, paralizza sindaci e dirigenti pubblici. Le condanne sono soltanto il 2%, ma l'amministratore finisce per essere delegittimato, scrive il messaggero. Nessun appello invece per i pubblici ministeri. In caso di assoluzione il processo si chiude in primo grado. Non gli inutili ingolfamenti della macchina giudiziaria. Ci sono nuove prove, si riparte da capo. Quindi carcerazione preventiva sulle misure cautelari dovrà decidere un organo collegiale e la durata dei processi con il ripristino della prescrizione. Il reato viene... I termini di fatti decorreranno dal momento in cui viene scoperto il fatto, non da quando è stato commesso. Veniamo ai fondi europei. La mappa dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Lazio vanno 17 miliardi. Sanità, infrastrutture e le priorità verso lo sblocco della terza trans. Ospedali più moderni nella capitale in Veneto, l'alta velocità Verona-Padova. Qui la mappa regione per regione dei progetti legati al PNRR. Vedete l'Umbria ha infrastrutture e trasporti in primo piano con 2,1 miliardi per quanto riguarda appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Lombardia è la seconda regione beneficiata dopo il Lazio con 11,5 miliardi seguita dalla Campania con 11 miliardi. Veniamo quindi alla grande fuga dal Sudan. Forze speciali per gli italiani, evacuati in 200, negli aerei anche stranieri. L'Italia non lascia in detto nessuno, dichiara il Premier Meloni. A bordo anche l'Ambassatore Tajani. Colloqui con i leader delle due fazioni. Ponterio con i gis dei carabinieri, gli incursori dell'esercito e i fucilieri dell'area dell'aeronautica per quanto riguarda la situazione di terrore che si respira in Sudan. La guerra iniziata lo scorso 15 aprile. Si teme un esodo, primi arrivi a Bari, avranno la protezione per i rifugiati. Tra 10 e 20 mila le persone che hanno già superato il confine con il Cihad, il nodo dei controlli nel Fezzal Libico. Mosca e il Cairo potrebbero approfittare della situazione per mettere sotto pressione l'Europa, scrive il messaggero. Medici nel mirino invece sulla Nazione. La psichiatra uccisa in manette un ex paziente da giorni preparava l'agguato in ospedale. E' morta dopo due giorni di agonia la dottoressa 55enne Barbara Capovani, qui nella foto a destra. Sono stati donati i suoi organi. All'arrivo della polizia l'uomo si è barricato in casa e ha spruzzato spray urticante. Aveva anche una balestra. Qui in foto il 35enne Gianluca Polseung, residente a Torre del Lago, frazione di Biareggio. L'aggressore con l'arma in mano inquadrato in volta a 250 metri dal luogo del massacro. Questo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza apposte proprio dinanzi alla clinica. L'uomo in cella si è avvalso della facoltà di non rispondere, sequestrati il pc e lo smartphone. Seung spregiò un medico, ferendolo con una penna, perseguitava tutti. A parlare il direttore di psichiatria del centro Versilia, che racconta l'aggressione avvenuta ormai due lustri fa. Il questore gli vetò di avvicinarsi, ma per la legge questi soggetti non sono punibili, ha detto il dottor Mario Di Fiorino, che è il primario del reparto di psichiatria dell'ospedale Versilia, dove era in cura proprio il 35enne arrestato dalla polizia. E questo porta anche alla questione legata al flop delle residenze psichiatriche, scrive la Nazione. Pochi posti, troppi pazienti in giro. Agli autori dei reati dichiarati infermi di mente e pericolosi viene applicata una misura di sicurezza. Ma le liste d'attesa sono lunghe, sottolinea lo psichiatra Forense. Anche la consulta ha invocato una riforma. Circa 700 persone attendevano l'assegnazione ad una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Questi i dati del 2021. E veniamo dunque alla prima pagina del Corriere dell'Umbria. Va all'orgia, compagna lo denuncia. Come abbiamo visto anche dalle pagine nazionali, è finita in questura la nottata di un 42enne perugino che è rientrato a casa ubriaco e drogato. La fotonotizia riguarda lo sport e soprattutto la ternana calcio. Quattro sberle dal Venezia per Donnarumma qui in foto e compagni sconfitta per 4-1 alliberati per una ternana che ora rischia sempre più di venire invischiata nelle zone melmose della classifica. Intanto Pierantonio, l'eccellenza ora è realtà dopo l'1-1 con la nuova Alba, la vittoria del campionato di promozione gironea e dunque ritorno in eccellenza per il Pierantonio Calcio. Festa della scienza e filosofia, presenza record a Foligno. Città di Castello, Holy Wine chiude col botto per quanto riguarda gli eventi che la regione ha ospitato nelle ultime ore e poi ancora un inverno povero di neve caduta a metà degli ultimi dieci anni. La stagione si è chiusa con un meno 52% per quanto riguarda appunto la neve. E poi traffico illecito di cuccioli chiesti rinvii a giudizio sempre da Perugia. L'intervista anche poi la vedremo a Francesca Pasquino, presidente dell'autodromo dell'Umbria di Magione, legare esempio di parità di genere, ha sottolineato proprio Francesca Pasquino. Veniamo quindi alla Nazione. In primo piano, qui vedete Pierantonio la rinascita. Il presidente fumanti dedica i risultati terremotati al superfan scomparso due anni fa. Una grigliata allo stadio e poi due bus per portare i tifosi in trasferta al seguito della squadra del Pierantonio Calcio, promossa in eccellenza un segnale di speranza dopo il sisma che ha sconvolto proprio la popolazione pierantoniese nelle ultime settimane. Orge è droga, la compagna lo denuncia, la donna ha chiamato la polizia dopo una lite con il fidanzato, trovato in possesso di stupefacenti ed è stato sanzionato. Sotto la testata, festa di scienza, parata di big la giornata finale, a Foligno, grandi numeri per l'evento culturale e a Gubbio per il 25 aprile, festa della liberazione, suonerà il campanone a Gubbio, sarà di fatti proprio il compleanno del campanone. Incentivi intanto in comune, parla il dipendente che ha presentato il primo ricorso a Perugia, terni verso le elezioni per sostenere i candidati arrivano i big della politica nazionale, Città di Castello è 45, tir in avaria, ma l'autista aveva bevuto troppo ed è stato multato. A Castiglione del Lago invece, Tulipani sfilano i carri, migliaia gli spettatori presenti dinanzi al lago. E veniamo quindi anche al messaggero. Furti, Lumbria è da record. Da sei anni è sempre tra le prime regioni preferite dei ladri per gli assalti in casa. Supercontrolli soprattutto nelle zone dei ponti, monitorate proprio anche le aree da dove è più facile fuggire verso la superstrada E45. Sesso di gruppo e droga, la fidanzata lo denuncia, Perugia, Nottefolla, Ponte Felcino, 43N finisce nei guai. Schianto mortale per Aristei, fatale l'aggancio della moto con la Jeep, la tragedia nelle marche, ma Vinicio Aristei era originario di Foligno e da anni viveva a Terni con la sua famiglia. PNRR è finora avviato un progetto su tre, sottolinea anche il messaggero regionale, dalla prima pagina. E la fotonotizia riguarda anche qui la Ternana di Sfatta Liberati, addio al treno dei play-off. Ora servono i punti, scaccia guai, scrive il messaggero per quanto riguarda la compagine di un affranto, Cristiano Lucarelli. Festa di scienza e filosofia, i numeri dicono 10.000 a Foligno, la rassegna è stata un grande successo tra gli ospiti di spicco, anche Don Ciotti. E poi sotto la testata, altri approfondimenti di carattere sportivo, Perugia calcio, contraddizione limiti, una squadra senza carattere dopo l'ennesimo pareggio stagionale nello scontro diretto con il Cosenza. Gubbio a Pontedera è 1-1, ora per la sfida play-off c'è il Rimini per la formazione di Piero Braglia, chiaramente ne parleremo stasera a fuorigioco alle 21.15 in prima serata, mentre per quanto riguarda i dilettanti, l'Orvietana batte il Città di Castello, il Foligno pensa invece al rush finale. Non si è giocato in eccellenza, turno di sosta verso gli ultimi 180 minuti di campionato. Veniamo al nostro sito www.trgmedia.it, Pontedera Gubbio 1-1, il rosso blu chiudono quinto, il primo turno play-off con il Rimini, dobbiamo solo divertirci, poi vedremo strada facendo, ha detto Braglia nel posgara, poi faremo il punto nel servizio e sentiremo anche le parole di Mr. Braglia. Questo invece è accaduto nel fine settimana a Gubbio, auto contro moto, due diciannovenni finiscono all'ospedale di Branca, due feriti per quanto riguarda l'incidente avvenuto in via Campo di Marte a Gubbio. Veniamo quindi a Umbre 24, strutture sociosanitarie, usle non trovano risorse, slittano, rialzi, tariffe e nuovi requisiti, proroga di un anno per conformarsi al nuovo regolamento regionale. Per la Ternana non è giornata, liberati passa 4-1 il Venezia e poi i carri di maggio a Terni, in una storia fatta di passione e tradizione con tutto il dietro le quinte per quanto riguarda il 127esimo Cantamaggio a Terni. Veniamo quindi a Perugia Today, partecipa un orge, poi torna a casa ubriaca e drogato, la compagna lo denuncia alla polizia. Fermata e controllato sul raccordo Perugia-Bettolli, 5.100 euro di multa e auto sequestrata per un 31enne, denunciato per uso di documento contraffatto nei guai anche la proprietaria dell'auto. Incidenti in montagna, motociclista trasportata all'ospedale di Perugia in elicottero, i soccorritori del Saso, il soccorso alpino e speriologico dell'Umbria, sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica a San Renziano, nel comune di Spoleto, lungo il sentiero 4-2-1 per recuperare un endurista infortunato. Veniamo quindi anche a tuttoggi.info, piano sanitario regionale, l'appello dei professionisti sanitari, dal Trasimeno Saramari, da Città della Pieve al Palazzo di Vetro dell'ONU. Dopo una dura selezione, la studentessa Umbria 18enne è stata scelta per il progetto come delegato attivo ONU con borsa di studio. Motociclisti ed escursionisti feriti, 6 interventi del Saso nel weekend. Per quanto riguarda le ultime ore, sabato e domenica, tra Spoleto, Terni e Orvieto, una squadra anche in supporto nel Reatino. NotiziaDiretta.it celebra il Pierantonio Calcio, che ce l'ha fatta, Bianco Azzurri promosso in eccellenza, centrata alla promozione con tre giornati di anticipo, un segnale di speranza dopo il terremoto. E poi, per quanto invece concerne altre notizie, Tiri in avaria, conducente positivo all'etilometro, era stato l'uomo a segnalare l'avaria del mezzo, contattando il 112. Gualdo News, addio ad Antonietta Tega, contribuì a far nascere intere generazioni di gualdesi, così la ricorda il portale gualdese, da tutti conosciuta come Antonietta, la levatrice per la sua attività di osterrica, svolta fino al 1992, anno in cui andò in pensione, è venuta a mancare a 96 anni Antonietta Tega. E ancora l'importanza di donare sangue spiegata agli studenti del Sigismondi e poi l'incontro dei studenti del Casimiri con la scrittrice Silvia Becchini. Veniamo quindi alle notizie all'interno dei quotidiani, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. In primo piano, un esercito di oltre 19.000 NIT. Chi sono i NIT? Sono i ragazzi under 30 che non studiano e non lavorano. Arriva anche un maxis gravio per chi li assume. In Umbria rappresentano il 14,4% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Le donne sono più numerose degli uomini. Il Comune di Perugia partecipa peraltro al bando del Lanci per rispondere alle nuove esigenze. Parla anche il Presidente di Conf Professioni Regionale, Roberto Tanganelli, alle aziende bonus del 60% sulla retribuzione, ha detto parlando del tema. Un'emergenza si potenzia la comunicazione social, questo rimarca anche l'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni. Piano sanitario, appello dei tecnici. Lettera all'assessore regionale Coletto, al direttore generale D'Angelo, ai due DG Martelli e Defino per quanto riguarda le usle. I professionisti dell'area di riabilitazione e prevenzione servono modelli per valorizzarci. Questo nella nota scritta ai vertici sanitari dell'Umbria, in foto Federico Pompei, che è Presidente proprio dell'Ordine in questione, che chiede che i tecnici possano essere coinvolti di più nel piano sanitario. L'obiettivo deve essere quello di rispondere alle esigenze assistenziali, viene rimarcato. Il nostro contributo è determinante, scrive di fatti Pompei, proprio ai vertici sanitari regionali. Un inverno con poca neve, cambiando argomento e parlando anche del clima, perché se ne è accumulata la metà. Il 2023 segna un meno 52% rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Così nasce la crisi d'acqua. In provincia di Perugia ha raccolta di 62,99 mm, mentre in cura di Terni si ferma a 27,52 mm. Qui in foto Castelluccio di Norcia, dove sono caduti fiocchi bianchi anche a inizio marzo. Di fatto una mosca bianca nel vero senso della parola per quanto riguarda la neve in Umbria. Endurista cade, portato via l'elicottero. Due infortuni anche alle marmore, sei interventi del soccorso alpino e spelo logico nel corso del weekend. L'operazione più delicata dopo l'incidente di un motociclista in un bosco nello Spoletino. Veniamo alla nazione. Umbria, la più amata, svetta tra le mete italiane preferite dai turisti. Dopo il boom di presenze a Perugia per quanto riguarda il Festival Internazionale del Giornalismo, le prenotazioni per i ponti del 25 aprile e del primo maggio proiettano già quasi ovunque il sold out. Qui vedete proprio le file che si sono create davanti a Piazza 4 Novembre, alla Sala dei Notari per quanto riguarda gli eventi del seguitissimo e partecipatissimo Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo una regione da scoprire in tutte le stagioni da un pubblico di ogni età, ha sottolineato l'assessore al turismo regionale Paola Agabiti. Anche ad Assisi, via di Francesco, trekking con gli asinelli per quanto riguarda ulteriori occasioni per i visitatori. E a Trevi si aprono ai visitatori anche le stalle, il gruppo Cooperativa Agricole celebra di fatti 50 anni. Taglio del nastro a Monte Castrilli di Terni per Agricollina 2023, attesi migliaia fra appassionati e curiosi proprio per quanto riguarda la Kermesse di Monte Castrilli. Festa di Scienza e Filosofia, parlando proprio di grandi eventi, raffica di Bigga, il gran finale, i numeri, i numeri siglano il successo. Pienone 26 eventi dell'ultima giornata, tra gli interventi finali quelli del matematico Pier Giorgio Di Freddi, del sociologo Domenico De Masi e del fisico Roberto Battiston. Battiston. Mentre a Castione del Lago il Tulipano, trionfo di colori per la prima sfilata per quanto riguarda la 53esima edizione della festa del Tulipano, un appuntamento che si protarrà peraltro fino al primo maggio. Veniamo alle storie della cronaca, allora, sulla Nazione Orgia a base di droga e alcol, poi la lite con la fidanzata e l'arrivo della polizia. Arrientra a casa del 42enne, esplode il diverbio con la compagna per la gelosia. Le lo denunce alla polizia e lui viene segnalato per detenzione di stupefacenti. Quindi, denunce e maximulta sul raccordo Perugia-Bettolle per un 31enne che è stato anche tradito dal nervosismo. Si legge, appunto, sulla Nazione. L'uomo è stato denunciato e multato per 5.100 euro. Risultava titolare di patente, non risultava, scusate, titolare di patente che aveva carico dei precedenti per guida proprio senza patente il 31enne. Conducente positivo all'etilometro anche sulla E45. 45 e poi, sempre da Perugia, taglio agli incentivi, due pesi e due misure. Parla il dipendente comunale che ha presentato ricorso prima degli avvocati. Ricorso al tardopo contro la riduzione degli incentivi sulle gare. Terni, la polizia stradale sotto organico, il sindacato di riferimento, la federazione sindacale di polizia, segnala, appunto, la grave carenza di personale nella polizia stradale di Terni. E poi a Spoleto, gara di enduro, infortunati in due, come abbiamo visto, soprattutto nella zona di San Renziano. Emergenza, sicurezza in primo piano sul messaggero. Furti in casa, l'Umbria da primato nazionale, supercontrolli per i ponti. Più di dieci famiglie, ogni mille, hanno ricevuto la visita dei ladri. La polizia manda più pattugli strada, attenzioni particolari nella zona, nell'arteria, tra Perugia e Assisi. Qui anche un vademecum contro i furti nel grafico con otto punti da seguire del messaggero. Il primo è la collaborazione con i vicini, vigilanza su presenze sospette, recapito ad utilizzare in caso di problemi, liberare la casetta della posta. Poi lasciare una luce accesa per non dare l'impressione di un'abitazione vuota a lungo. Tre, per chi lo possiede, mettere sempre in funzione l'allarme. Ancora, fotografare oggetti di valore e fare una scheda con i dati considerati utili in caso di furto. Quindi non lasciare messaggi sulla porta, sulla cassetta postale, lasciando intendere che in casa non c'è nessuno e non creare risposte automatiche che segnalino l'assenza sulla casella di posta elettronica. Quindi ancora, prima di partire, chiudere bene porte, balconi, tapparelle e finestre. Non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili ed evitare di postare foto o riferimenti a vacanze fuori città sui social. Particolare verifiche nelle zone da dove è facile raggiungere l'E45 e anche la centrale Umbra. Negli ultimi sei anni la regione finisce sempre in vetta la classifica delle aree meno sicure, segnala proprio il messaggero. E poi PNRR, un progetto su tre, ad oggi risulta avviato. Nella regione ricadranno oltre 2 miliardi di interventi di valore proposti dagli enti locali, sottolinea la governatrice Tesei. Le infrastrutture costituiscono la parte principale delle iniziative intercettate dall'Umbria. Quindi dal messaggero ancora sesso di gruppo e droga, notte folle a Ponte Felcino. La fidanzata di un 43enne che ha partecipato si vendica denunciandolo alla polizia. Dopo una lite l'uomo era andato al bar e aveva ricevuto l'invito al festino. A Rimbocchi l'addio di Mirò tornerà l'illegalità. I problemi per gli eventi portano allo stop. Riconsegniamo le chiavi del circolo per quanto riguarda appunto il circolo Mirò che riconseglierà le chiavi del locale del parco Rimbocchi. Fontivegge zuffa all'alba in un bar, è successo in zona Proletto nel fine settimana. E poi ancora per le strade pericolose tamponamento tra medico in moto e un ciclista. La rabbia di federciclismo non se ne può più, viene rimarcato. Questo per quanto riguarda le notizie in primo piano che proseguono sul Corriere dell'Umbria con l'intervista a Francesca Pasquino, presidente dell'autodomo dell'Umbria di Magione. Nelle gare c'è parità, uomini e donne corrono per la stessa classifica, dichiara proprio Francesca Pasquino nella sua intervista al Corriere. La telefonata da parte di Ruggero Campi, presidente ACI, mi disse è arrivato il tuo momento, fatti valere un centro polifunzionale dell'autodomo di Magione, il nostro paddock perfetto per fare concerti dai grandi numeri, sottolinea proprio Francesca Pasquino. 50 anni di storia per l'autodomo di Magione, fondato proprio nel 1973. Veniamo quindi a ultimi approfondimenti per quanto riguarda le segnalazioni anche dei lettori a Perugia. Marciapiedi disastrati, manto stradale in cattive condizioni all'inizio di Viale Roma, vicino a Piazza Partigiani e in via della Pallotta dove si rischia di inciampare e cadere per colpa delle buche. Qui vedete proprio le crepe che si creano sulla strada, soprattutto nei marciapiedi e che sono segnalate proprio dai lettori del Corriere per quanto riguarda peraltro due zone di Perugia piuttosto trafficate e transitate dai pedoni. A caso ubriaca e drogato dopo Orgia, la sua compagna chiama la polizia a notte da Leoni, finisce male per un 42enne denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Sulla Perugia Bettolle, patente falsa, multa di 5.100 euro a un tedesco 31enne. Ancora, traffico di cuccioli dalla Romania, chiesto il rinvio a giudizio per due persone. Veterinari e allevatori adesso rischiano il processo di Enza davanti al gruppo il prossimo 7 giugno. Prende in via anche un'indagine sullo stato dei plessi scolastici, con l'associazione Rete degli Studenti Medi e l'Egambiente hanno indetto per mercoledì alle 15.30 una conferenza stampa per presentare un'indagine che sarà avviata per fare il punto sullo stato degli edifici scolastici e dei relativi servizi nel territorio. Ancora un incidente, serve tutelare i ciclisti, appello del presidente di FederCiclismo Massimo Alunni per quanto riguarda appunto questo ambito e la tutela verso coloro che vanno sulle due ruote. Il progetto Spesa Sospesa, in aiuto di 6.500 poveri, coinvolti 8 enti, tra i quali Caritas e Croce Rossa, recuperati 255.000 chili di prodotti. Intanto il circolo Mirò chiude, esposti a multe salate, non ne possiamo più, la decisione del gestore Luisi per quanto riguarda il locale ai rimbocchi, l'associazione culturale Mirò. In 12 al doposcuola popolare di via Birago, positivo il bilancio dei primi due mesi dell'iniziativa nata dal basso e supportata dalla parrocchia con il sostegno del parroco Don Luca De Longhi. Mentre per l'infanzia, iscrizioni negli asili nido, c'è tempo fino al prossimo 2 maggio. E passiamo così ai territori, ripartendo sempre dal Corriere Castiore del Lago, in migliaia per i carri alla festa del Tulipano. Ieri la prima delle sfilate e domani si replica sotto il sole, in tanti hanno voluto ammirare la sfilata dei carri con migliaia di petali e tulipani a Castiglione. A San Giustino invece, San Giustino partecipa il piano sanitario penalizza i territori, incontro con i cittadini, depotenziamento inaccettabile è stato detto durante l'incontro. Ubriaco, molesti passanti, è stato sanzionato da Sisi, intensificati controlli della polizia durante il ponte festivo, identificate 139 persone. E poi, dato odi, spopolamento dei centri storici con affitti brevi. Parla Francesca Chiavari, presidente di Confesercenti, che interviene sulla normativa per gli immobili, conseguenze per attività commerciali, dichiara la presidente di Confesercenti Todi, Francesca Chiavari. Città di Castello invece, in primo piano, il successo di Holy Wine Festival con stand presi d'assalto, un successo confermato per la Kermess, sempre più protagonista anche le produttrici donne. Oggi la giornata è dedicata agli esperti del settore per quanto concerne la Kermess vitivinicola, che si è tenuta a Città di Castello, si sta tenendo a Città di Castello in questi giorni. Chiede aiuto alla polizia, scoprono che guida Ubriaco, sanzionato il conducente di un auto articolato sulla E45, proprio nei pressi di Città di Castello. E piccoli studenti, lezioni di sicurezza alimentare, iniziativa Palazzo Vitelli dell'Agenzia delle Dogane. A Sansepolcro, Ubriaco di giorno al volante, tenta di entrare in centro, un quarantenne, un vertidese, ha approvato da Porta Romana e poi da Porta Fiorentina. Andiamo a Foligno, festa di scienza pieno di giovani. Si è conclusa la dodicesima edizione della manifestazione. Grandi apprezzamenti, ha sottolineato il direttore del festival Mingarelli. Anche ieri in tanti hanno atteso di partecipare alle conferenze con lunghe code che si sono create. Un flusso di gente davvero importante per quanto riguarda il Festival di Scienza e Filosofia a Foligno. Navette gratuite intanto per la Valle del Menotri, servizio attivato dai comuni per domani dalle 9, per l'andata fino alle 19.30 per il ritorno. Incidente in via Trasimeno a Foligno, due giovani portati in ospedale dopo uno scontro avvenuto nel Folignate. Gara per i lavori a Palazzo Ancaiani invece da Spoleto. Via Libera al procedimento dopo l'assegnazione dei fondi per la ricostruzione post-sisma con interventi per 528.000 euro. Visita guidata tra incisione e architettura. Torna venerdì alle 18 l'appuntamento di Sistema Museo con mezz'ora dopo la chiusura. E sempre da Spoleto incontro tra Civescovo Boccardo e comunità islamica. Si è tenuta a Bagliano in occasione della conclusione del Ramadan. Costruiamo la pace per diffonderla. È stato appunto rimarcato dall'incontro. Da Terni invece pronto soccorso e rianimazione nuovi. I dati dei primi tre mesi di 2023 con il direttore dell'azienda Santa Maria e la rivoluzione strutturale e organizzativa. In foto Andrea Casciari che appunto è il direttore dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Valutazione del project financing si concluderà entro un mese e mezzo per quanto riguarda il nuovo ospedale. Da in escandescenze e ferisce le forze dell'ordine. Parapiglia in zona Porta Sant'Angelo. Arrestato un ventitrenne Ternano. Oggi ci sarà la direttissima per lui. Morto in moto attesa per il rientro della Salma. Il quarantenne Vinicio Aristei ha perso la vita in un tragico scontro. L'incidente avvenuto nelle Marchi in provincia di Macerata. La procura deve concedere ora il nulla osta. Sul carro le lotte di classe del Novecento. Si va verso la sfilata del 30 di aprile. Ultima tappa del viaggio del correre nei cantieri del Cantamaggio. Ed ecco l'idea di Monte Castrilli. Piero Carsiglia il lavoro con la squadra sul Colosso di Cartapesta. Le figure di Centurini e Orientale. Qui lo vedete anche dagli scatti per quanto riguarda i carri del Cantamaggio di Terni. Per la politica invece Kenny in Tura San Giovanni. Nel parco mancano i giochi. La visita nel quartiere c'è una situazione di delegado e declino. Dichiaro il candidato sindaco Giuse Maria Kenny. A Terni serve chiaro uno sportello Europa per i fondi. Parla anche in questo caso Castaldo, l'europarlamentare dei Cinque Stelle. Al gazebo di Claudio Fiorelli, candidato sindaco con i pentastellati. Quindi ancora da Narni in questo caso al suffragio spazi insufficienti. Bruschini di Forza Italia sollecita soluzioni per il parcheggio e denuncia. Evidenti danni per incuria in piazza Acqua Nova. Qui in foto proprio il parcheggio del centro storico di Narni. È previsto un ampliamento per il 2024 che costerebbe 7 milioni di euro, dei quali 2 milioni tra i contributi statali e regionali. A Orvieta ha aperto una sala d'attesa per l'ufficio Anagrafe, ma è scontro in consiglio comunale sul tema. Ad Amele raccolte 200 firme per internet pubblico in biblioteca. E a Montecchio un postamat a Melezole, località ora più vivibile. Il sindaco Federico Gori plaude all'attivazione dello sportello automatico nella frazione Ternana. Servizio fondamentale per i residenti e turisti. Veniamo anche al messaggero da Gubbio. Auto nel mirino dei Vandali. Gomme squarciate e fiancate e rigate con il punteruolo. Ride in piazzale Frondizi al parcheggio del centro Santo Spirito, appena sotto il corso centrale, corso Garibaldi di Gubbio. Valordi favoriti dal fatto che in zona non ci sono le telecamere di sicurezza. Assalto anche in periferia, scrive il messaggero. Con il comune ha promesso il videocontrollo, la videosorveglianza, ma fino a oggi non ci sono visti gli effetti, sottolinea proprio il quotidiano per quanto riguarda queste situazioni sicuramente spiacevoli per tante persone che hanno ritrovato la propria macchina con le gomme squarciate e con le righe fatte sulle fiancate. Todi al torneo di Arcus Tudor, vince ancora Ettore Bertoldi per quanto riguarda gli arcieri tuderti, camionista trovato ubriaco lungo le 45 a Città di Castello e parte dall'Alto Tevere la sfida contro le barriere architettoniche con il mosaico 2.0 che è coinvolto in un profico confronto alla Bufalini, la governatrice Tesei proprio sul tema, grazie appunto anche al supporto degli amici in carrozzina per il progetto Zero Barriere in Umbria. Città di Castello, da giovedì scuole protagoniste sul palco degli Illuminati con ben 17 spettacoli. Andiamo a Foligno, festa di scienza, un successo coinvolti oltre mille giovani disponibili a collaborare con Quintana e Primi d'Italia, sottolinea il Deus Ex Machina Pierluigi Mingarelli. Le prenotazioni e le conferenze hanno toccato quasi quota 10.000. Emergenza ospedale senza cardiologo H24 scatta la diffida con l'azione da parte di Cittadinanza Attiva che ha formato tale diffida dopo i problemi legati alla mancanza del primario di cardiologia. Schianto all'incrocio di Via Trasimeno, due persone ricoverate per ferite lievi. Musica e cuore intanto al premio Generosità che si terrà a Spoleto giovedì al Teatro Caio Melisso. Da Terni, morto in moto durante la gita, letale l'aggancio con la jeep, Vinicio Aristei, 40 anni in sera alla sua BMW, avrebbe urtato il fuoristrada e poi c'è stato il tragico schianto. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Matteo a Campitello. Il magistrato ordinato all'autopsia che verrà svolta solo domani, dinamica ancora da accertare. Polizia stradale, carenza di personale non più tollerabile, mancano 15 agenti. La denuncia da parte dei sindacati, aggredisce e ferisce in caso un finanziere e tre agenti di polizia. Il grave episodio in un'abitazione a Porta Sant'Angelo, arrestato un 23enne Ternano. Sanità e sicurezza, le priorità degli anziani. I presidenti dei centri sociali si rivolgono ai candidati. Il nuovo ospedale si è realizzato con fondi solo pubblici. Tra le richieste è anche una maggiore attenzione ai trasporti, potenziare i collegamenti con le strutture di aggregazione. Caro Bollette, post pandemia la ripartenza non è stata aiutata, lasciati soli anche dal comune. Salvini, San Giuliano e Tagliani a Terni, il tridente del centrodestra per Masselli. Per quanto riguarda i big della politica in arrivo a Terni, in vista delle elezioni dei prossimi 14-15 maggio. Per Cosè Maria Kenny, il PD ha contattato il segretario Sclein, Chiara Appendino o l'ex premier Conte, invece per Claudio Fiorelli. Questo dunque per quanto riguarda anche il messaggero. Veniamo anche alla nazione, dai territori, partendo da sport e solidarietà. Pier Antonio promosso in eccellenza un traguardo dedicato ai terremotati. Per il Borgo, duramente colpito dal terremoto dello scorso 9 marzo, un forte segnale di speranza. Prima della gara decisiva, giocata a San Martino in campo, grigliata per tifosi e sfollati allo stadio Marinelli di Pierantonio. Qui proprio nella foto i tifosi bianco-celeste arrivati da Pierantonio con il bus della società. Il calcio è gioia, ha detto il presidente di Pierantonio Filippo Fumanti, e deve continuare a divertirci, regalando soddisfazioni al nostro paese così tanto colpito dal terremoto. La campagna elettorale si infiamma andando a Terni. Adesso sfilano i big Castaldo, Salvini e San Giuliano. Due ministri a sostegno del candidato Masselli. Per Fiorelli c'è invece un euro parlamentare. Kenny favorevole alla proposta di Cia Umbria per la costruzione di un nuovo mattatoio. A Orvieto 400 firme raccolte invece per la piscina pubblica di Ciconia, fuori servizio ormai da giugno dello scorso anno e sulla cui riattivazioni non si riescono ancora ad avere certezze, scrive La Nazione. A Spoleto novità alla Sordini, irrigazione green per l'orto della scuola, scrive proprio appunto il quotidiano La Nazione. E da Gubbio il 25 aprile al suono del Campanone, la città celebra con grande solennità la ricorrenza del 25 aprile. Si comincia alle 9.30 con il raduno di autorità e cittadini in Piazza Grande, come sottolinea anche il sindaco Sirati, liberazione del nostro paese dal nazismo e dal fascismo. Come detto alle 9.30 con il raduno delle autorità e poi alle 12 la suonata del Campanone, la gigantesca campana della torretta campanaria nel Palazzo dei Consoli per quanto riguarda le sue inconfondibili armonie. A ricordo omaggio alla Festa della Liberazione, infine alle 17.30, la fanfara Barsiglieri con Onnello Reggianini di Gubbio offrira tutto il momento di festa con una sfilata per le vie del centro, con inizio e conclusione in Piazza Grande e un omaggio finale per l'appunto. Questo per quanto riguarda le celebrazioni del 25 aprile in arrivo a Gubbio. Passiamo così alla pagina anche della cultura e degli eventi, partendo dall'album del Corriere e l'archeologia in primo piano. La lingua etrusca non è più oscura, risolti quasi tutti i misteri degli 8000 lemmi. Una conferenza degli uffizi fa il punto anche fuori i risultati delle ricerche, ad aiutare i recenti scavi di San Casciano che hanno portato alla luce nuove iscrizioni. Un team di giovani sta cercando di svelare gli ultimi termini irrisolti, scrive proprio l'album del Corriere. Mentre per quanto concerne proprio gli appuntamenti e soprattutto gli eventi musicali estivi, all'Umbria che spacca arriva anche Fabri Fibra. Tappa a Perugia per il rapper storico, forse il miglior rapper italiano di tutti i tempi, che sarà appunto a Perugia con Davoles, iniziata la pre-vendita dei biglietti per quanto riguarda l'artista nativo di Senigallia. L'appuntamento il 30 giugno ai Giardini del Frontone per quello che sarà il main event dell'Umbria che spacca per quanto riguarda soprattutto la musica hip hop. E poi esperienze memorie in una manciata di sillabe, lippelappe, il nuovo libro di Ombretta Ciurnelli. Cento quartini in lingua perugina, sabato ci sarà la presentazione alle 17.30 nella biblioteca comunale di San Matteo degli Armeni. E passiamo così allo sport, partendo dal calcio serie B, dalle pagine del QS, inserto della Nazione, grifo allergico al gol, Castori ritrova Olivieri. In questa stagione il Perugia è segnato più della Ternana e come il Suttirol, ma negli ultimi turni ha fatto flop l'attaccante atteso in gruppo. Parliamo proprio di Olivieri. Intanto l'exodo si prepara, col Perugia dobbiamo vincere a tutti i costi, ha detto proprio il tecnico della SPAL, che sarà il prossimo avversario proprio del Grifo. Fere, disastro rosso-verde, tonfo in casa col Venezia. Pomeriggio da incubo alliberati, Ternana fragile e disorganizzata, spuntate imbarazzanti in copertura, a parte i pilo illude all'ottavo, poi i lagunari passeggiano per quanto riguarda appunto una partita che ha visto la squadra uscire tra i fischi, Lucarelli defende Falletti sotto le curve per parlare con i tifosi. Sono stati più squadra di noi e ci hanno surclassato, ha detto con grande onestà l'allenatore delle fere. Partipile Favilli che involuzione, Bogdano di Tacchio in sofferenza. Pagelle di fatto tutte negative per la Ternana. E poi Serie C, Gubbio pari a Pontedera, attesa per scoprire la sfidante play-off. Sarà il Rimini? Al momento lo è perché ha chiuso decima la squadra romagnola, il Gubbio quinto dunque il 30 di aprile. Lo scontro sarà a gara unica con il Gubbio che avrà due risultati su tre a proprio favore, ma c'è di mezzo la situazione del Siena che potrebbe essere penalizzato e dunque in tal caso uscire addirittura dalla zona play-off e far spazio alla Recanatese che a quel punto sarebbe decima in classifica e cambierebbe ovviamente la griglia legata al primo turno della post-season. Ma intanto concentriamoci su quanto accaduto tra Pontedera e Gubbio ricordando che stasera alle 21.15 torna fuori gioco su TRG per analizzare proprio l'ambito rosso-blu e del campionato di Serie C a 360 gradi. Ora però quanto accaduto in Pontedera-Gubbio con il servizio curato da Federico Minelli e poi anche le parole post-gara di Mr. Braglia. E torniamo. Trentottesimo e ultimo turno di campionato del girone BDC c'è il manuccio scontro diretto play-off tra Pontedera e Gubbio. Canzi ne cambia ben 8 su 11 rispetto al roboante Blitz di Fermo optando per il 3-4-2-1 con Ianesi e Mouton a supporto di Nicastro in avanti. 3-4-2-1 anche per Braglia c'è Semeraro a sinistra e Bontà in mediana Arena e Di Stefano a supporto di Vasquez in attacco. Al dodicesimo punizione per il Gubbio sul vertice sinistro dell'area di rigore calcia Rosaia forte a rientrare verso il secondo palo nessuno tocca di testa e Siano è reattivo a respingere. 25esimo minuto, trama rosso-blu fu la destra Morelli pesca sulla tre quarti Vasquez gran palla liftata per l'inserimento di Arena steso dall'intervento Goffo e il ritardo di Sciba all'interno dell'area nessun dubbio per l'arbitro Mirabella di Napoli calcio di rigore per il Gubbio alla battuta va lo stesso Arena con il prediletto Mancino Siano da una parte, pallone dall'altra e Gubbio in vantaggio arriva in doppia cifra a quota 10 gol Arena che trasforma in maniera impeccabile il terzo penalty su tre calciati in campionato per l'1-0 Gubbio in terra toscana 35esimo minuto, rimessa laterale sull'out destro offensivo Granata Somma riceve con troppa facilità sul fondo e crossa in mezzo retroguardia e Gubbina paralizzata con Guidi che salta in mezzo a Portanova Signorini e Bontà il suo colpo di testa è respinto da un super greco che nulla può però sul tapin ravvicinato sempre di Guidi che sigilla con il sinistro sotto la traversa la rete del pareggio seconda gioia personale in stagione per il centocampista classe 2003 complice una difesa rosso-blu troppo passiva e deconcentrata e Pontedera che riequilibra il risultato al minuto 43 grande azione palla terra del Gubbio con scambi stretti che favoriscono la salita di Bonini fino alla tre quarti palla bassa in aria per Vasquez che devia sottomisura ma complice anche la marcatura di Martinelli non inquadra lo specchio della porta finisce 1-1 la prima frazione di gioco e nella ripresa al minuto 51 Ladinetti trova in verticale il movimento di Mutton destro in corsa sulla pressione di Portanova alto sopra la traversa tre minuti dopo prova a rispondere di Stefano per il Gubbio rientrando verso l'interno e calciando col destro Siano blocca senza patemi girandola di cambi dentro Peli, Perretta, Cioffi e Zillo nel Ponte d'Era Braglia invece inserisce in serie Corsinelli, Nicolao, Bulevardi e Spina ma la partita resta bloccata e al minuto 75 a provarci e Cioffi su punizione dalla distanza attento Greca a respingere dentro l'ex specie per Canzi nel finale mentre Braglia figiocca anche la carta Arras e si arriva ai 5 di recupero e al novantatresimo sempre da una palla inattiva il Gubbio ha la chance del raddoppio corner profondo di Spina torre di Bonini per Signorini che cerca la torsione aerea all'angolino proprio all'ingresso dell'area piccola ma il pallone si perde sul fondo finisce 1-1 il Gubbio chiude in quinta piazza quota 61 ed è ora atteso nel primo turno playoff a gara unica alla sfida con il Rimini decimo che si disputerà nel prossimo fine settimana al Barbetti oltre al fattore campo i rosso-blu avranno due risultati su tre a proprio favore fino alla fine ci abbiamo provato non era facile il primo caldo il ponte d'era non è facile venire a vincere qua mi sembra che ci abbiamo vinto tanti noi ci abbiamo provato abbiamo fatto anche una discreta gara una buona gara i ragazzi sono stati bravi hanno fatto un campionato secondo me eccezionale perciò vi posso solo ringraziare glielo ho detto anche a loro negli spogliatori c'era anche uno che era un po' giovane non serve a niente noi ci è girato un po' le scatole per tanti motivi si è spenta un po' la luce come ho sempre detto per un mesetto e mezzo buono poi fortunatamente sono stati bravi ragazzi a parlare un po' fra di loro a cercare perché non era facile non era facile riprendere quello che avevamo perso perché poi si era spariti proprio dal campionato abbiamo perso tante partite ma non per merito degli altri che si giocava proprio noi poi se gli altri giocano e sono meglio di noi gli si fa complimenti ci mancherebbe però abbiamo passato un brutto periodo onestamente campi d'alleamento 3.000 cose se ci mettiamo a parlarne ora non serve a niente per le offre per giocare per divertirsi noi non siamo me viene da ridere quando dicano il Gubbio una squadra è attrezzata per vincere il campionato dai non scherziamo il Gubbio ha fatto il campionato che poteva e doveva fare e adesso si deve solo divertire poi passi i turni e va avanti ti viene in mente qualche altra cosa ma in questo momento secondo me chiedere qualcosa in più a questi ragazzi è una cavolata poi ripeto se fra due turni tre turni siamo ancora dentro ci divertiamo e facciamo girare le scatole a tutti perché l'obiettivo deve essere quello e vediamo preferisco che il Ponte d'Era faccia il proprio cammino noi il nostro e poi ci troviamo a finale poi si sogna poi ci si sveglia si dà una capata e si rimane lì e dall'ironia finale su un ipotetico scontro conclusivo playoff tra Ponte del Gubbio di Mr. Braglia vi rimando stasera ancora all'appuntamento con Fuori Gioco 21.15 su TRG analizzeremo tutto in maniera assai più ampia e variegata con ospiti studio, servizi, approfondimenti e chi più ne ha più ne metta passando invece in Serie D l'Orvietana va sul velluto affonditi i fernati sempre dal QS finisce 3-0 il derby Umbro che valeva tanto in ottica salvezza Città di Castello sempre più nei guai sotto questo punto di vista nei guai anche il Trestina che non riesce a vincere con il Monte Spaccato ultimo finisce 1-1 e la corsa salvezza diventa sempre più in salita sia Trestina che Città di Castello oggi sarebbero nei play-out ma vicini alla zona della retrocessione diretta Sir Russo abbiamo vinto ma ci sono stati alti e bassi parlando di Superlega arrivata la vittoria nell'ultima gara con Verona ma non ancora la fluidità di gioco Treme Perugia secondo successo consecutivo nella pool salvezza sul finire di stagione il team trova forma e risultati vittoria per quanto riguarda la formazione di volley femminile con Emil Bronzo Montale veniamo anche al Corriere dell'Umbra a fare da incubo poker Venezia finisce 4-1 a Liberati non c'è nulla da salvare della prestazione ma la colpa è di chi dice che siamo da play-off ha detto Luca Relli il Perugia non segna più lo riporta anche il Corriere squadra secco da tre giornate con una sola rete all'attivo negli ultimi 360 minuti intanto Livia ritorna ad allenarsi con la spalla resta però in dubbio Mato della formazione bianconera chiamano a raccolta i tifosi per essere appunto al palazzetto Monza ha il comando con i block Davids dopo tre giornate per quanto riguarda la lotta della Challenge Cup che vale il quinto posto in classifica veniamo quindi anche a ulteriori approfondimenti per quanto riguarda la Serie C anche sul Corriere Gubbe play-off da quinto quarto posto sfumato per una sola lunghezza dopo il pari di Pontedera primo turno il Trenta al Barbetti con i rimini come detto le canatese in caso di altre penalità del Siene intanto Arena raggiunge la doppia cifra di gol in campionato ora ci divertiamo ma non siamo attrezzati per vincere il campionato come abbiamo sentito le parole di Braglia calcia 5 Serie B la Generali Fuzzal passa Corrinaldo ma sfuma la promozione diretta andando invece nei dilettanti Serie D Dominio Orvietana nel derby Rosini sblocca poi le doppietta di Ricci Città di Castello ad un passo dal Baratro Prestina solo un punticino per rimare in rigore firmi il vantaggio ma non basta con il monte spaccato ora c'è da sudare pure per un posto nei play out la salvezza diretta ora diventa una chimera dichiare il presidente Bambini a fine gara torno delle regioni eliminate l'under 19 l'under 15 femminile ai quarti invece c'è la Liguria promozione gironea come abbiamo visto Pierantonio in eccellenza dopo l'1-1 con la Vis Nuova Alba la grande festa del popolo Pierantoniese le altre partite tra 0 del Tavernelle sul campo del Piccione 4-0 del Montone con il Gualdo Casagastalda Pieveze 1-1 con il Mantignana 2-1 del Castel del Piano con la Pietralunghese il Padule che vince il rimonte 2-1 con il Marra San Veliciano gol decisivo del giocatore allenatore bomber allenatore Giacomo Calzuola dopo che Bellucci su rigore aveva pareggiato il gol di Monti del San Feliciano vince anche il Selcinardi 2-1 sul campo dell'FC Castello 4-0 del Cazzolaro sul Viole per quanto riguarda il girone B di promozione il Campitello Cema il Terni FC passa di forza vince 2-1 in casa 0-0 Real Avigliano Guardia 2-0 del Bevagna sullo Sporting Terni lo Spoleto che batte 4-1 la Ducato nel Derby Vis Foligno che spugna 2-1 il campo del Super Berga 48 trazzare esterno anche del Bastia con il San Venanzo 2-2 invece fra Todi e MC 98 veniamo dunque anche ad altri approfondimenti sul Calciacinque con la Gaccia Perugia di nuovo in B feste gol al Pellini respinto il Real Rieti campioni salgono dunque in B i perugini della Gaccia del Fussal Real Rieti già in finale Norcia fuori l'altra semifinale tra gli egubini del San Martino Calciacinque del Presidente Filippetti e di Mister Fumanti che giocheranno contro la CLT Terni Atletico Foligno invece ha due femminile se girone C spazza via Sarno per quanto riguarda ancora la C femminile la due femminile girone C Perugia brutta chiusura di regolarsi sono i tre punti vanno alla Salernitana invece Rugby Serie A Beffa Acea sorpasso Pesaro che vince 31 a 30 proprio sul campo del 15 Perugino Podismo Giro dell'Umbra in quattro tappe venerdì si parte da Montefalco Duathlon festa magione per i campionati italiani a due femminile seconda vittoria di fila per la 3M Perugia mentre ciclismo Tris Dassi a San Pellegrino per quanto riguarda la Gran Fondo di Gualdo Tadino con 350 bikers perfetta all'organizzazione in campo femminile dominano le portacolori Umbre successo di Gaudenzio che precede Giulia Cozzari e Ursula Arcangeli tra gli uomini si impone invece Mazzola Basket C Silver Gualdo sorride fa piangere il fratta rinviata data da destinarsi invece a Tomica Spoleto Urbania chiudiamo con il messaggero per quanto riguarda sempre lo sport Grifo nel cuore della crisi due punti nelle ultime cinque partite per la formazione di Castori a questo punto con la spalla serve una reazione forte scrive il messaggero Fere figuraccia liberati dopo il 4-1 con il Venezia ho sempre parlato di salvezza sottolinea Lucarelli nel post-gara il Gubbio chiude al quinto posto presidente notari soddisfatto peccato solo per quel gol preso sottolinea il patron Eugubino L'Orvietana vince il derby città di Castello in tilt 3-0 calcio femminile Ternana Valanga con Tiltrani finisce 7-1 studiando in serie D 1-1 per il Trestina con il Monte spaccato in eccellenza la volata di Ciuccarelli e Armillei nel giorno della sosta mancano 180 minuti e si giocano appunto la promozione Ellera e Sansepolcro dei due tecnici Ciuccarelli e Armillei e poi Foligno il rush finale verso i play out la caccia della posizione migliore e la formazione di Cotroneo i tifosi dei Falchetti intanto organizzano un incontro mercoledì sera per il futuro proprio della società Folignate questo per quanto riguarda lo sport anche sul messaggero ma continuiamo a parlare di sport e di grande sport a breve nel caffè piccola pausa e poi torniamo subito con il caffè di TRG restate con noi e poi